Purtroppo è toccato a lei, ma poteva succedere ancora una tragedia peggiore, quindi perché correre? Perché? A parlare, Rosanna Agnelli, madre di Federica Canneti, morta lo scorso ottobre in un incidente stradale lungo la regionale 71 all'altezza di Vitiano. Aveva solo 22 anni. Il giovane che guidava l'auto su cui si trovava Federica assieme ad altri amici, è stato accertato dai periti, che viaggiasse ad una velocità di 136 km orari. Lei non neanche si è accorta, e questo è il problema, che lei è morta senza accorgersi. Morire così non lo augura nessuno. Per noi è sempre una cosa ricordarla in questo momento, ci fa star male, insomma. Oggi però non è il giorno in cui i due genitori della 22enne vogliono parlare delle vicende giudiziarie che avranno sicuramente un loro iter. Rosanna e il marito Marcello sono a Castiglion Fiorentino, in cui Federica viveva con i genitori e la sorella, per sostenere una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale voluta dall'amministrazione comunale e dalla Polizia Municipale. Un'auto incidentata, esposta nel piazzale Garibaldi, è uno slogan, meglio perdere un secondo per la vita che la vita in un secondo. Una campagna a shock che ha fatto anche discutere, ma il sindaco Mario Agnelli risponde alle polemiche rilanciando sull'importanza dei comportamenti alla guida. Non ci sono né strade killer né macchine killer. Purtroppo è l'uomo, la donna che guida, che può diventare killer di se stesso piuttosto che degli altri. E questo è quello che dobbiamo non stancarci di combattere. Io sono grato alla famiglia Canneti, che in questo momento non pensa a Federica, ma pensa a tutti gli altri. Non vorrei mai più accompagnare un babbo e una mamma all'obitorio la sera per far vedere la figlia. Questo da comandante e da babbo è veramente un dolore incredibile e te lo porti dietro. Benvenga qualsiasi iniziativa, quindi anche forte, anche dura, va sempre a braccetto con la prevenzione. Prevenzione e controlli. Occorrerebbero più controlli e per forza di cose siamo limitati. Le forze di polizia sono il numero esiguo, però bisogna in tutti i modi trovare una soluzione. Anche una vita che salviamo è importantissima.